A differenza di tanti artisti hanno il gusto dell'attuale, sono curiosi, guardano oltre la loro grossa nicchia, una cosa che i rapper di nuova generazione a volte un po' egomaniaci pensano di non dover mai fare. In realtà l'egomaniaco è proprio insito nel rapper, ogni rapper si sente il migliore del mondo, anche se è il più scarso, questa è una cosa stranissima, ma serve a loro per superare i loro limiti. Poi chi riesce a gestire il proprio ego, poi fa un po' di strada, chi non ci riesce ne rimane soffocato. Assolutamente, ma questa proprio è la vita. Siete sempre arrabbiati giustamente. C'è una traccia dove trattiamo proprio questo argomento, diciamo che in 15 anni, nonostante le critiche, nonostante comunque gli elogi, abbiamo sempre fatto quello che piace a noi, essenzialmente come la prima cosa, spaziando dai vari generi. E forse questo ci rende quello che siamo tutt'oggi, dopo 15 anni essere ancora una band, essere ancora così uniti, e cercare di fare ancora musica senza mezzi termini, senza compromessi. GDV 2013 Radio Italia Live